Riunioni, incontri e promesse ma ad oggi nessuna risposta concreta per i lavoratori dei consorsi di bonifica dei bacini settentrionali della provincia di Cosenza che avanzano 12 mensilità e che per far sentire la loro voce sono saliti sul tetto dello stabile che ospita una delle sedi, quella di Cammarata a Castrovillari. Questa è purtroppo una situazione strutturale che riguarda tutti i consorsi della provincia di Cosenza. Abbiamo Scalea con un arretratto di 7 mensilità, abbiamo Trebisacce con 4 mensilità, Mormanno con 12 mensilità. Quindi penso che a questo punto dobbiamo capire bene cosa vogliamo farne dei consorsi e dei lavoratori dei consorsi. Una situazione dove non si intravedono prospettive né immediate e tanto meno future. Bisogna agire su due filoni diciamo noi. Da una parte la riforma dei consorsi che ormai sono al collasso in tutta la Calabria di rilanciare i consorsi però c'è un altro filone che è quello immediato, diciamo di come i consorsi purtroppo non riescono ad andare avanti. Se l'agricoltura è importante come è importante nella nostra regione, sono importanti i consorsi di bonifica senza i quali l'agricoltura non potrebbe essere di qualità come è nella nostra regione. Intanto si apprende che oggi dovrebbe esserci un incontro con il prefetto di Cosenza per decidere il futuro dei consorsi e dei lavoratori.